L'illuminazione standard di base di un soggetto collocato in una scena si compone di almeno tre luci. La luce principale serve a rendere visibile il soggetto, in genere angolata rispetto alla camera e produce delle ombre, si può usare un proiettore o una quarzina. La seconda luce, frontale, morbida e più debole della principale, serve ad attenuare le ombre senza crearne di nuove. La terza luce è il controluce che dà rilievo al soggetto staccandolo dallo sfondo, in genere è un proiettore e deve essere diametralmente opposto alla principale. Una quarta luce può essere aggiunta per illuminare lo sfondo. Questa è l'illuminazione tipica per un'intervista in studio, ma la regola delle tre luci si può applicare a qualsiasi situazione. Utilizzando luce principale, schiarita e controluce, si ottiene sempre un'immagine corretta. In una fiction o in un lavoro dove l'immagine deve essere creativa, si può variare lo schema delle tre luci. L'illuminazione deve simulare la realtà. Si devono mettere le luci in modo coerente con il risultato realistico che si vuole ottenere.